Il libro che vi presento oggi Mukashi Mukashi è un libro in cui sono raccolte otto fiabe della tradizione popolare giapponese, quattro illustrate da illustratori italiani e quattro invece illustrate da illustratori giapponesi. Il titolo del libro significa proprio c'era una volta. I generi della fiaba giapponese solitamente si suddividono nel genere del racconto del c'era una volta e invece nel genere del racconto per diletto. Noi oggi affrontiamo invece questo primo genere quello del c'era una volta e questo primo genere è legato alla tradizione orale e popolare della fiaba giapponese. Il filo rosso però che a mio parere insomma da quello di cui ho potuto fare un'idea io lega tutte queste storie è l'invito all'altruismo, l'invito a donare, a essere generosi con il prossimo, ad aiutare il prossimo e l'altro senza aspettarsi nulla in cambio, solo per il piacere di farlo, per il gusto di donare. Perché poi alla fine in ognuna di queste fiabe comunque c'è una sorta di morale, ossia il bene che abbiamo fatto in qualche modo in una sorta di ruota della fortuna poi ci ritorna e quindi diciamo se si è generosi e si genera bene è come se si innescasse una sorta di processo universale per cui dal bene nasce altro bene e questo appunto è un messaggio che ha una valenza, una portata universale del pensare al proprio prossimo e essere felici di aiutarlo. A prescindere da qualsiasi cosa ci si aspetti in cambio e questo è un bellissimo messaggio secondo me e in alcune di queste fiabe passa proprio questo concetto. In ogni fiaba si trovano degli elementi magici, degli elementi soprannaturali che sono propri della tradizione orale e all'inizio del libro come potete vedere qui e anche alla fine del libro c'è una sorta di bigino, di riassunto di quelle che sono quei simboli, quelle figure proprie della fiaba giapponese della tradizione come ad esempio lo jizzo che è una divinità che protegge i bambini e i viaggiatori. Statue di jizzo intagliate nella pietra si vedono spesso lungo le strade addornate con un bavaglino o un copricapo che le ripari dal freddo o congirando le mosse dal vento. Oppure troviamo il tanuki e il kitsune che sono il tanuki è il cane proccione giapponese e il kitsune la volpe. Le leggende sono animali magici dotati di poteri soprannaturali e quindi nella prima pagina e nell'ultimo vengono presentati tutti quegli elementi, quei personaggi o quelle figure proprie della fiaba giapponese che ritroveremo ovviamente all'interno delle fiabe. Quindi è una sorta di mappa che ci consente di capire meglio anche l'atmosfera e di cosa stiamo parlando visto che si presume non sia proprio una cultura a noi così familiare. Oppure c'è il kappa che è una creatura che abita stagni, fiumi, trascine in acqua, gli umani e il bestiame. O ancora il yamamba che significa vecchia dei monti e che ha lunghi capelli disordinati ed è una sorta di strega e ovviamente c'è una storia anche legata a questa figura. E poi non può mancare il bambino straordinario. La tipologia della fiaba giapponese presenta diverse matrici, una delle quali è proprio quella del bambino straordinario, ossia un bambino dotato di una forza straordinaria, capace di fare cose che gli adulti non riescono o non possono. Ed è una figura che si ritrova spesso anche nelle anime, ossia nei cartoni giapponesi che sono spesso ispirati alle storie dei manga. Il tempo poi è sempre sospeso in una dimensione indefinita, infatti molte storie finiscono, si chiudono proprio con, e questo è successo tanto 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 tempo fa. Quindi ci dà un'idea appunto indefinita nel tempo ed è un'altra caratteristica. Un altro dettaglio che mi ha molto colpito è questo, ossia queste zucche così disegnate da questo illustratore, sono ovviamente una citazione esplicita a un artista contemporanea giapponese, è un po' pazzerella questo artista, che produce proprio, che disegna queste zucche a pois, le fa soprattutto gialle, le si chiama Kusama, ha anche delle sculture fatte con queste zucche proprio a pois e quindi questo ci fa pensare anche una cosa, ossia che in questo libro vive sia la tradizione del passato e della cultura giapponese, ma anche strizza all'occhio diciamo al presente, al contemporaneo e a un'artista giapponese contemporanea e quindi tradizione e presente si si fondono in un in un bel mix, devo dire, perché questo libro è davvero molto bello, le illustrazioni sono molto belle.